grazie grazie commissario per aver preso parte dalla discussione quattro sono le proposte risoluzioni chiudiamo il dibattito non voteremo più tardi passiamo al prossimo punto all'ordine il giorno il bangladesh in particolare i matrimoni di minori 7 autori castaldo la facoltà grazie presidente abbiamo un accordo di cooperazione e partenariato sullo sviluppo con il bangladesh e comunione europea dobbiamo avere il coraggio di dire ai nostri partners quando ci sono dei problemi e in bangladesh ai miei di problemi ce ne sono molti con la risoluzione di oggi vogliamo evidenziarne uno particolarmente grave in bangladesh il tasso di ragazze che si sposa entro i 18 anni del 52 per cento le spose bambine con meno di 15 anni sono il 18 per cento del totale è evidente che la maggior parte dei casi non si tratta di una scelta e proprio per questo motivo le nazioni uniti la ritengono una violazione dei diritti umani perché apre la porta ad abusi legati alla dote alle molestie sessuali agli stupri e alla legittimazione di corruzione di minorenne per questo pur riconoscendo gli sforzi intrapresi dal bangladesh negli ultimi anni per migliorare la situazione vogliamo dire al governo che questo non basta e bisogna andare avanti in modo più deciso e convinto la legge sulle limitazioni al matrimonio minorile del 2017 e le scappatoie in essa contenute che di fatto legalizzano queste eccezioni deve essere riscestinata e completamente riscritta vogliamo ricordare al governo che il tesoro più prezioso di un paese è sempre rappresentato dalla sua gioventù sì perché di gioventù che stiamo parlando oggi cari colleghi di bambine ed è il compito di un governo tutelare questo tesoro per metterne un'educazione nel pieno rispetto dei loro diritti e garantire loro un futuro e la possibilità di poter scegliere decisamente liberamente e scevra da ogni vincolo la persona con cui vorranno passare la loro vita in questo caso noi non possiamo che fare il nostro dovere dell'unione europea e dire al bangladesh è ora di porre in essere veri passi in avanti concreti questa legge non basta e non può bastare grazie grazie per aver rispettato i tempi di parola la facoltà un'autotrice sorai a posto presidente una ragazza di 14 anni portata all'altare da sposare un uomo il doppio della sua età per sempre il 52 per cento delle ragazze in bagladesh si sposa entro a compimento dei 18 anni quindi il 18 per cento entro i 15 anni la nuova legge permette tante eccezioni che porterà a più casi di stupro donne sfigurate dall'acido queste ragazze non hanno accesso all'istruzione vivono nell'isolamento nella povertà nella dipendenza economica e servitù sono bambini non sono merce di scambio nel mercato dei matrimoni tra adulti colleghi oggi abbiamo l'opportunità per far sapere queste ragazze che noi abbiamo abbandonate il loro futuro ci sta a cuore il parlamento deve agire a facoltà olrique luna c'è un minuto e mezzo grazie colleghi visitatori in tribuna immaginate avete 14 15 anni venite stuprati e poi i genitori tribunale decide che nel vostro interesse sposare lo stupratore è quello che sancisce questa nuova legge sulla limitazione del matrimonio tra minori una cosa terribile che dobbiamo denunciare ed è bene tenere questo dibattito anche se al girl summit nel 2014 il banglade banglade si era impegnato a ridurre il numero di matrimoni minori di questa legge include molte deroghe quindi un passo indietro potrebbe portare ad un aumento degli abusi stupri legittimazione del matrimonio forzato attacchi all'acido e a caso in cui la ragazza deve sposare lo stupratore dobbiamo denunciarlo il banglade riesce a fare un'altra cosa fondamentale quattro anni fa a rana plaza nel 2013 c'è stata la catastrofe di un capannone tessile più mille cento tre donne uomini sono morti molti feriti il sustainability compact deve portare un miglioramento nella sicurezza del settore tessile e diritti lavoratori però questo non è stato attuato quindi chiedo alla commissione e al sea e di seguire la situazione per garantire che i diritti umani e dei bambini e dei minori vengano presi in considerazione in bangladesh grazie Presidente la risoluzione molto utile evidenza il problema del matrimonio minorile e la violenza sessuale contro le donne del bangladesh che noi condanniamo però dobbiamo fare un distinguo tra queste preoccupazioni è una condanna forfettaria nei confronti delle culture e tradizioni del bangladesh che sono diverse da quelle dell'unione europea nel regno unito in spagna l'età legale per il matrimonio 16 col permesso dei genitori paragrafo 13 riferimento riferimento regolamento su donazioni estere si chiede l'emendamento naturalmente vogliamo come una società libera che opera in bangladesh e ogni normativa che vieta questo sviluppo ci deve preoccupare però ci sono stati problemi con alcune ONG che hanno operato quale veicolo di diffusione dei jihadisti dobbiamo sostenere il diritto del governo bangladese di reprimere queste prassi è un paese laico con un accordo di partneriato economico con l'unione europea dobbiamo aiutarlo nel suo progresso democratico e prosperità grazie il prossimo oratore è la onorevole sanchez prego grazie il bangladesh ha approvato una riforma che consente il matrimonio tra minori di minori in alcune circostanze però queste alcune circostanze aprono lo spiraglio per la legalizzazione di una prassi consolidata secondo l'unicef c'è il secondo più alto tasso al mondo di matrimoni infantili e il più alto dell'asia più della metà delle ragazze sotto 18 anni e un numero altissimo sotto i 15 questa riforma è un passo indietro in materia di diritti umani in particolare i diritti delle donne e delle ragazze non dimentichiamo che il matrimonio infantile molte volte è una conseguenza della povertà e della diseguaglianza e può essere combattuto quindi con politiche sociali sull'istruzione la sanità il diritto sessuale riproduttivo delle bambine e delle ragazze molte volte sono gravidanze non volute che portano a questi matrimoni non va dimenticata la grave situazione dei diritti dei lavoratori in questo paese delle loro libertà sociali e libertà di espressione gli arresti arbitrari le torture a sindacalisti e difensori dei diritti umani sono allarmati però abituali la commissione quindi dovrebbe avviare quanto prima un'indagine su il rispetto delle convenzioni internazionali sui diritti umani e del lavoro non possiamo continuare a dare il regime gsp a un paese nel quale le violazioni dei diritti umani sono ogni giorno sempre più gravi soprattutto a danno delle donne grazie grazie onorevole sanchez adesso ditta aranzava per un minuto e mezzo prego grazie presidente i matrimoni infantili una violazione dei diritti umani i minori non sono in grado di dare il loro pieno consenso e ci sono prove sufficienti che denunciano l'impatto psicologico grave di questi matrimoni minorili bangladesh lo sa e ha cercato di ridurne la la frequenza però togliere un'età minima e creare condizioni speciali per il matrimonio non è una soluzione non possono esserci casi speciali per le violazioni dei diritti umani il bangladesh aveva già uno degli alti dei tassi più alti di matrimoni tra minori di minori ora questa nuova legge non farà altro che continuare questa prassi anche aumentarla le autorità del bangladesh devono agire ora per impederlo le condizioni speciali per i matrimoni di minori vanno definite in modo chiaro e devono essere comunque molto difficili con forti sanzioni per chi viola la legge per scoraggiare questi matrimoni nei casi di gravidanza devono essere disponibili altre soluzioni sicure l'unione europea deve aiutare le autorità del bangladesh a fare ciò né in generale rispettare i propri impegni sui diritti umani grazie grazie thomas sdkowski prego grazie presidente a nome del pp vorrei dire che anche se il bangladesh ha fatto enormi progressi in tante materie calpestano ancora i diritti umani in in molti aspetti parliamo di matrimoni di minori ragazzine di 15 anni anche meno a febbraio di quest'anno ho visto con sorpresa che in bangladesh hanno adottato una legge che fondamentalmente consente consente il proseguo di queste pratiche nonostante il fatto che il governo del bangladesh si fosse impegnato a ridurre gradualmente il numero di questi matrimoni i diritti dei minori vengono costantemente calpestati e questo ha un impatto enorme sul loro sviluppo psicologico le vite future non possiamo tollerare una cosa del genere e chiedere al governo di cambiare questa legge e proibire il matrimonio di minori senza eccezioni grazie e adesso passiamo agli interventi dei gruppi politici a nome del pp è l'onore le sciogor prego noi condanniamo il matrimonio di minori non solo perché è contrario ai diritti dei minori e perché non è una norma accettabile nelle società europee anche se vi ricordo che in alcune delle nostre comunità esiste ancora ma lo condanniamo perché espone i minori a enormi rischi per la loro salute minori che vengono costretti a sposarsi e che non sono ancora pronti neanche alla maternità ma che vengono forzate a farlo a causa di norme sociali vanno terminate queste prassi perché perpetuano la povertà molte volte questi minori abbandonano ovviamente le scuole e questo è un ostacolo alla mobilità sociale quindi nei paesi via di sviluppo in cui una bambina su due si sposa prima dei 18 anni una prima una su sei prima dei 14 devono cambiare per il gruppo socialista non avevo le leads prego Presidente il Bangladesh ha approvato una legge per ridurre l'età di chi si sposa purtroppo contiene però una clausola che li permette di sfuggire a questa regola purtroppo il 52% delle bambine si sposano prima dei 18 anni e il 17% prima dei 15 secondo il Parlamento europeo la legge potrebbe avere come conseguenza la violenza conseguenza della dota attacchi con l'acido stupri e la legittimazione quindi della corruzione di minarenne il fatto è che le bambine potrebbero essere addirittura obbligate a sposare il loro violentatore per questo io sono a favore della nostra proposta di risoluzione che invita il governo a modificare la legge le carenze e le lacune giuridiche vanno chiuse in modo da vietare tutti i matrimoni tra minorenni grazie per il gruppo ECR non è la regia Tanska prego grazie Presidente il 52% delle ragazze si sposano entro il diciotesimo anno detta 28 ragazze si sposano ogni minuto questa è la media il tasso più alto in Asia più della metà delle ragazze si sposano prima aver compiuto 18 anni il diciotto per cento entro i 15 anni recentemente è stata varata una legge per cercare di limitare i matrimoni precoci però prevede delle eccezioni e non si stabiliscono delle età minime è una legge che non tutelerà le ragazze dobbiamo innanzitutto lavorare all'istruzione perché delle ragazze istruite potranno difendersi meglio per i liberali l'onorevole Becerra grazie Presidente si parla di Bangladesh solo quando c'è un incidente in un impianto tessile che lavora per imprese occidentali e muoiono decine di lavoratori non protetti nel Bangladesh uno dei paesi più poveri del mondo ci sono altre cose che meritano la nostra attenzione anche se non imprenditoriale un paese di 150 milioni di abitanti in quasi la metà dei matrimoni la sposa è una minore fino a qualche mese fa la legge prevedeva che una minore potesse sposarsi ora hanno riformato la legge hanno introdotto delle eccezioni affinché quelle ragazzine che restano incinta possano sposarsi col futuro padre e il violentatore la ministra della per le donne per le donne dell'infanzia me l'ha confermato all'ONU non può esserci però un'eccezione di questo tipo bisogna dare protezione giuridica e una completa educazione sessuale e riproduttiva per le minori del Bangladesh l'Unione Europea ha promesso 700 milioni di aiuto nel programma pluriannuale indicativo per il Bangladesh ebbene signora Mogherini prego di congelare subito questi fondi essere rigidi noi possiamo finanziare un moderno un governo che apre delle scappatoie per il matrimonio di minori grazie grazie Onorevole Ignazzo Corrao per il gruppo FDD grazie presidente il Bangladesh continua a far parlare di sé per quanto riguarda le violazioni dei diritti umani su diversi fronti libertà di associazione matrimoni precoci arresti arbitrari e abusi da parte delle forze dell'ordine sono passati ormai anni dalla tragedia di Rana Plaza tragedia che ha tirato l'attenzione dell'opinione pubblica mondiale ma ciò nonostante nessun cambiamento è davvero avvenuto ci sembra chiaro che non ci sia stata alcuna reale presa di coscienza da parte del governo sulla necessità di apportare le dovute riforme anzi si è andati di male in peggio il salario minimo non viene aumentato dal 2013 mentre il costo della vita è aumentato in modo significativo costringendo lavoratori, sindacalisti e giornalisti a scioperare e denunciare le inaccettabili condizioni di vita a cui sono sottoposti per tutta risposta il governo ha deciso di procedere con arresti e repressioni e come se non bastasse ha praticamente legalizzato il child marriage dobbiamo assolutamente esprimere il nostro dissenso la Commissione Europea deve avviare un'indagine che mette in luce le violazioni al sistema di preferenze generalizzate dell'Unione Europea da parte del governo del Bangladesh e comportarsi di conseguenza grazie grazie onorevole Corao grazie onorevole Kelly per il PPE prego grazie presidente si tratta di una pratica scandalosa orribile purtroppo però sappiamo diffusa nel mondo e sappiamo che fino al 71 per cento delle ragazze minori in Bangladesh vengono obbligate in un mondo non altro a spogarsi che non è certo accettabile il Bangladesh ha adottato una legge per ora il governo vuole introdurre delle eccezioni per casi speciali ma cos'è un caso speciale? ogni caso può essere speciale in teoria quindi dobbiamo fare pressione sulle autorità del Bangladesh perché cambiano questa pratica e dobbiamo anche aiutarli a fornire istruzione a far si che questa cultura possa cambiare e a prevenire queste frasi eh prassi per sempre onorevole Assish per i socialisti prego grazie presidente il governo del Bangladesh si è impegnato a obiettivi concreti per lottare contro i matrimoni di minori una piaga che lascia ferite psichiche e fisiche stravolge la personalità e aumenta il rischio di analfabetismo violenza fisica e povertà il Bangladesh ha fatto dei progressi in materia anche se continua ad essere un paese con il più alto tasso di matrimoni di minori tuttavia la legge recentemente approvata invece di essere un passo decisivo per combattere questo dramma è una legge perversa perché introduce eccezioni in casi speciali senza che sia chiaro quali siano i criteri senza avere un'età minima il Bangladesh ha avuto dei fondi dell'ONU e della UNICEF per un programma per lottare contro il matrimonio dei minori anche l'Unione è finanziatrice di questo programma e quindi possiamo esercitare pressione sulle autorità perché rivedano la legge se no non si riuscirà a lottare contro questa prassi che causa di tanta sofferenza grazie grazie onorevole Karim ECR prego presidente intervengo oggi in veste di presidente del comitato permanente all'interno della commissione per il commercio con il sud est asiatico e in Bangladesh ho visto di prima mano gli enormi miglioramenti che sono stati fatti con meccanismi commerciali per consentire una maggiore affermazione delle donne in particolare delle famiglie guidate da donne tuttavia quello che vediamo oggi è un enorme passo indietro rispetto ai grandi progressi realizzati proprio nell'età in cui una ragazzina avrebbe più bisogno del sostegno della società del paese si trova soggetta ad altri obblighi e sicuramente non vede difesi i suoi migliori interessi quindi dico al Bangladesh al governo comunione noi abbiamo lavorato con voi vi abbiamo affiancato e siamo stati orgogliosi anche noi di vedere gli enormi progressi che avete realizzato però ascoltate la voce di questo Parlamento oggi questi sviluppi non ci fanno andare avanti mettono in difficoltà il nostro rapporto ma noi vogliamo continuare a incoraggiarvi ad andare avanti nel difendere l'affermazione della donna grazie l'onorevole il Parlamento del Bangladesh ha adottato la legge che prevede che i matrimoni di minori possono comunque avere luogo in casi speciali non meglio definiti ora la mancanza di definizione di questi casi speciali fa sì che di fatto venga sancita la possibilità di avere questi matrimoni di minori noi siamo preoccupati del fatto che questa legge può essere utilizzata per obbligare ragazzine violentate a sposare il violentatore aggravando il trauma noi vogliamo che il governo del Bangladesh si concentri meglio sui diritti umani dei minori grazie bene grazie bene grazie ora c'è la procedura catch the eye onorevole Polchak prego per posto dell'estaisla Polchak micro thanks eh di cui s'ho grazie per avermi dato la parola presidente anch'io vorrei condannare con forza questi matrimoni forzati di minori in Bangladesh ma dovremmo non solo denunciare la situazione ma condannare la legge stessa e le violazioni degli impegni che il Bangladesh si era assunto però non dobbiamo essere ipocriti dobbiamo anche dire che cosa succede se un musulmano viene nell'Unione Europea con una moglie che magari ha 15 anni o anche meno e si sposa sul territorio dell'Unione Europea anche queste sono cose che sono altrettanto inaccettabili non è che sono inaccettabili solo se succedono in Bangladesh quindi noi dobbiamo condannare il fenomeno che sta succedendo che succede anche nell'Unione Europea e dobbiamo questo denunciarlo in modo chiaro grazie bene adesso abbiamo pochissimo tempo ancora a disposizione quindi potrò dare la parola solo a un'altra persona per gruppo politico eh l'onorevole Grappini prego grazie 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 quanto si richiede non basti. La Commissione deve adottare misure corrispondenti insieme con l'Unicef e con l'ONU perché la situazione cambi in pratica, perché queste ragazzine soffriranno per tutta la loro vita di essere state costrette al matrimonio. Sostengo la risoluzione che ho sottoscritto su un paese, il Bangladesh, dove lo sfruttamento minorile a livello laborale in impianti, tessili, essenzialmente facenti capo a multinazionali europei e all'ordine del giorno. C'è una violazione plateale dei diritti umani con i matrimoni di minori e quello che succede in Bangladesh è che in questo momento il 18% delle ragazzine che si sposano sono sotto i 15 anni. In teoria Bangladesh ha deciso di adottare misure per limitare i matrimoni di minori al di sotto dei 15 anni entro il 2021, però la legge approvata sostanzialmente consente questi matrimoni ed è per questo che è inaccettabile perché in sostanza consentirebbe ai violentatori di poter sposare le ragazzine appena violentate. Grazie Presidente, deputati. L'Unione Europea ha costantemente e coerentemente chiesto al governo del Bangladesh di garantire il rispetto dei diritti umani, della democrazia e dello stato di diritto. Questo gesto politico è stato fatto in congiunto con il Parlamento europeo e vari deputati europei nel corso delle recenti visite in Bangladesh hanno chiesto al governo di rispettare la libertà di espressione, i diritti del lavoro, lo stato di diritto e diritto fondamentali, cose che sono state riprese con ampia risonanza nella stampa locale. La strategia dell'Unione Europea per i diritti umani identifica la prevenzione dei matrimoni di minori tra le priorità e l'Unione Europea solleva la questione dei matrimoni di minori regolarmente con le autorità del Bangladesh e recentemente anche nel sottogruppo EU Bangladesh sui diritti umani e il buon governo a dicembre dell'anno scorso. In particolare l'Unione Europea ha sollevato preoccupazioni nei riguardi della legge di prevenzione del matrimonio di minori che stabilisce l'età del matrimonio a 18 anni ma consente delle eccezioni in circostanze specifiche. Inoltre l'Unione ha contribuito 6 milioni al programma finanziato dall'Unicef sulla lotta al matrimonio di minori che opera anche in Bangladesh. Per quanto riguarda la situazione dei diritti umani in generale, nel sottogruppo l'Unione ha espresso preoccupazione per le uccisioni extra giudiziarie, la pena di morte e i problemi di libertà di espressione e di associazione, la situazione delle minoranze, la violenza ai danni delle donne, i diritti lavorativi fondamentali. La consultazione diplomatica tenutasi a febbraio di quest'anno a Bruxelles con il Bangladesh ha riconosciuto il fatto che sono stati fatti dei progressi nell'ambito del piano di sostenibilità. Però l'Unione Europea ha detto che vanno colmate varie lacune tra le quali la libertà di associazione e i diritti umani sono anche parte della cooperazione all'aiuto allo sviluppo nell'ambito del programma pluriennale che per il Bangladesh sostiene azioni di buon governo anche per l'istruzione e l'alimentazione fino al 2020 per 690 milioni di euro di stanziamento globale. Le questioni dei diritti umani e del matrimonio di minori verranno comunque affrontate anche nel prossimo incontro che si terrà a Bruxelles nella prima parte di quest'anno con il Bangladesh. L'Unione Europea è pronta a collaborare con il governo del Bangladesh per affrontare queste questioni. Grazie. Grazie a lei, commissario. Ho ricevuto sette proposte di risoluzione in conclusione di questo dibattito. Il dibattito è così concluso. La votazione avrà...